Chi decide in Forza Italia? Chi decide in Forza Italia? Da sempre Berlusconi, per sempre Berlusconi e continuerà Berlusconi, nel bene e nel male. Il secondo? Cioè dopo chi c'è? Non ci sono secondi, non ci sono le seconde linee da noi. Da noi c'è Berlusconi e poi c'è il casino. Il casino, esatto. Ma subito dopo Berlusconi c'è il casino? E chi è che? Sì, sì, la seconda linea di Forza Italia è già il casino. E chi è il capo del casino? Fitto? Ma no, non ci sono capi del casino, siamo tutti abbastanza casinisti, individualisti. Ah, ma quindi c'è praticamente il... Il casino è di quelli promettenti. A pari merito? A pari merito tutti i casino.